e c'è il super ospite vedete che siamo sempre vedete che siamo sempre in zona montagna gli alberi ci sono sempre sia sopra che sotto e quindi un bravissimo intervento per sanremo che insomma non è andato benissimo come auditel come ascolti nelle puntate precedenti ma già con questo super ospite è già quindi si è già sollevato parecchio sono poche strofe ma d'impatto musiche il resto scompare musica il resto scompare la musica la musica il resto d'eccesso chi fermerà la musica la musica finisce ma rimane l'amore allo